Eccoci qui in questo bellissimo giardino con questi bellissimi fiori, ulivi, piante che i giardini del convento, i giardini imperiali in questa bellissima primavera estate 2014 del convento di Lonato di Brescia guardate quanta gente sta già mangiando all'esterno nei giardini, mister Dave seguimi che andiamo subito a scoprire questo fantastico giardino estivo questo è solo una piccola parte dei giardini estivi del convento di Lonato di Brescia queste donne sono timide e non si girano verso la camera, guardiamo se questa fanciulla si gira e saluta verso la camera saluti, ciao ciao, è timide, perché non bisognava sapere che lei stasera era qui al convento quindi sta girata, sta in incoibito, questo ragazzo è come fare l'aperitivo al mare, è qua tranquillo, rilassato com'è che ti chiami? questo è Manuel l'ombra caliente della Spagna sì, perché mi piace molto il volverare del convento che bello, faccio un'intervista con Google Translator adesso, dopo lo traduciamo in italiano e in bresciano è molto loco, perché mi piace la popolarità, la fiesta che sta qui in Italia o a Madrid, dove io sto e io, questo è molto gusto sì, però qui in Italia, questo è un'altra cosa questo mi piace molto, molto gusto il convento ti piace? molto gusto, questa è la prima volta per me però ti posso dire che questo è molto gusto, molto bella, chiquita, churita da noi a Madrid si dice churita le chica? no, churita churita è quando dici, bella churita, che questo non lo faccio qui ah, fantastico allora salutiamo tutti i tuoi amici di Spagna? questo è il mio amico tutto quanto da Madrid, ve lo saluto tutto quanto qua da Manuel da Manuel, salutiamo, ciao! ciao, buono! guardiamo, bocchiamo subito lo sposo guardiamo subito lo sposo